Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca trovato con 16 grammi di cocaina e oltre 1000 euro in contanti addosso. E' stato arrestato per questo motivo un giovane residente ad Arezzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di Città di Castello a far scattare le manette a seguito di un controllo avvenuto nel corso del fine settimana che ha proprio preceduto il ferragosto. Si tratta di un 27enne di origini albanesi, residente proprio nel capoluogo Aretino, che dovrà rispondere di detenzione dei stupefacenti ai fini di spaccio. Una visita all'interno della casa circondariale di Arezzo nel pomeriggio di oggi da parte di una delegazione dei radicali italiani. La visita è iniziata intorno alle 16.30. Tanti i temi trattati. C'è stato un incontro anche con la polizia penitenziaria. Di questo vi parleremo nel dettaglio nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ancora cronaca. È stata danneggiata la tomba di Federica Canetti, la 22enne morta in un incidente stradale lo scorso ottobre lungo la regionale 71 nei pressi di Vitiano. La lapide, completata solo da pochi giorni, è stata danneggiata. La famiglia ha ritrovato in pezzi uno dei tre girasoli in ceramica che erano stati scelti come decoro in ricordo proprio del carattere solare della giovane. A rendere noto quanto era accaduto è stata la madre di Federica Rosanna Agnelli. Nei suoi profili social è un giorno, ha scritto triste per noi come tutte le altre feste, ad amareggiare ancora di più la nostra situazione perché non bastava, sottolinea la madre, l'irrisoria sentenza che è stata pronunciata per la nostra fede. Abbiamo trovato una sorpresa al cimitero. A Monta ha 2.776.000 euro la quota del Fondo Sanitario per il 2022 destinato alle aziende sanitarie toscane per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo. Una vera dipendenza è una patologia che rischia di far perdere soldi e anche di distruggere vite e famiglie. Dei 2.700.000 euro 616.000 arriveranno alla ASL Toscana Sud-Est che dunque comprende anche la nostra provincia. Le aziende dovranno inviare entro il 15 gennaio del 2024 una relazione sull'attività svolta. Adesso invece parliamo di cantieri, ce ne sono molti in città e allora l'assessore Alessandro Casi chiede un po' di pazienza agli aretini e promette che presto si vedranno i risultati. Via Baldaccio sta andando avanti, a breve inizieremo a vedere la demolizione del tunnel attuale dove passano oggi le auto e quindi inizieremo ad avviarci verso la fine di questi lavori per un intervento importante. Via Fiorentina anche quel cantiere sta andando avanti perché stiamo ultimando quelle che sono le lavorazioni che riguardavano i sottoservizi quindi la parte iniziale dell'intervento ancora di fatto oggi non è partito l'intervento per il proprio perché era necessario portare avanti questi interventi propedeutici. Gli altri cantieri di entità minore stanno andando avanti perché siamo quasi alla conclusione di quelle opere che erano più importanti che stavano andando avanti, vediamo l'aria verde al poggio del sole che abbiamo fatto anche incontri con la soprintendenza proprio per definire le ultime cose e credo che nel mese di novembre verrà ultimata e quindi riusciremo ad avere l'aria finita. Abbiamo la rotonda di via dei Carabinieri che anch'essa abbiamo fatto un sopralluogo poco prima della fine di luglio quindi pochi giorni fa e abbiamo anche lì definito gli ultimi interventi e come già possiamo vedere oggi appunto si vede un po' l'impronta della rotatoria e quello che sarà la fine dei lavori. Abbiamo il punto prelevi Baldaccio che anch'esso è un intervento che stanno montando gli infissi e siamo in fase di definizione anche lì credo che per ottobre e novembre avremo la chiusura del cantiere. Inoltre stiamo preparando, abbiamo già firmato i contratti per il braccetto scambiatore che collegherà appunto via Bonconte da Montefeltro fino a via Tarlati e anche lì credo che partiremo con i lavori più o meno nel mese di ottobre. La stessa cosa stiamo ultimando nella rotatoria di Santa Maria in cui apriremo il bando per l'assegnazione dei lavori a fine agosto e dopodiché partiremo anche in questo caso verso ottobre e novembre. Quindi questi sono i cantieri principali che sono in corso o in via di partenza appunto dei lavori e questi sono tutti i lavori che si sommano a quelli che il PNRR ci sta dando e quindi che stiamo comunque portando avanti. Quindi avremo sicuramente un fine 2023, inizio 2024 che ci darà sicuramente tante soddisfazioni perché riusciremo a portare a termine numerosi interventi di cui oggi stiamo vedendo i cantieri e vedremo l'inizio di tanti cantieri e quindi sicuramente ci sarà anche da stare attenti appunto su quelle che sono le variazioni che vedremo nella nostra città e quindi chiediamo anche un po' di pazienza ai nostri concittadini che in questo anno vedranno veramente tanti cantieri partire. Parlando ancora di cantieri, la ASL Toscana Sud-Est in quelli di sua competenza invece alza l'asticella per quello che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'ASL Toscana Sud-Est schiere tecnici della prevenzione in vista degli oltre 20 cantieri che saranno in attività da qui al prossimo anno in provincia di Arezzo. Stando al cronoprogramma degli interventi, tra fondi PNRR e piani di investimenti triennali il numero è di oltre 20. Sicuramente l'azienda sanitaria sta diventando in questo momento non solo un presidio di salute per i cittadini ma diventa anche una fucina per la realizzazione di immobili che ospiteranno per i finanziamenti PNRR attività sanitarie. Via Guadagnoli, via Laschi, i lavori in corrispondenza dell'ospedale San Donato d'Arezzo sono tre esempi di realizzazione di strutture, di oggetti edili in cui ditte operatori, lavoratori, assicurano l'effettuazione delle opere. E' importante garantire la sicurezza. La sicurezza è responsabilità dei singoli datori di lavoro ma la ASL svolge due funzioni. Generalmente una funzione ispettiva, funzione che mantiene anche per i cantieri extra a ASL Toscana Sud-Est ma anche una funzione educativa di orientamento, di guida dei lavoratori che spesso possono dimenticare l'adozione di qualche misura di sicurezza. Vogliamo in questo modo rendere possibile l'aumento della protezione delle maestranze dei lavoratori che sono nei nostri cantieri perché considero inammissibile che proprio a casa nostra i lavoratori, anche di altre aziende, non rispettino le norme elementari di sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel concreto, due tecnici della prevenzione aziendale, esperti in materia, assumeranno il ruolo di direttore operativo di cantiere al fine di effettuare specifiche verifiche sull'attuazione delle misure di sicurezza in tutti i cantieri aperti nella provincia di Arezzo. Saranno dei dirigenti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi che vigileranno e saranno insieme alle maestranze perché l'educazione nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro non si fa solo a lezione, attraverso lezioni frontali, ma si fa sull'esperienza sul campo. Molte volte non si utilizzano banali comportamenti di protezione. Lei ha citato il casco, ci sono gli inserti acustici, le scarpe antinfortunistiche, magari perché sono troppo pesanti, o il casco perché magari fa troppo caldo. La presenza di persone che ti fanno capire sul campo direttamente l'importanza di queste misure e credo che sia un compito straordinario quello della prevenzione. Compiti che già fanno le ditte, che hanno la responsabilità dell'esecuzione dei lavori, ma credo che l'Asla abbia anche un dovere morale nei confronti di queste maestranze. Un'estate calda per i pendolari a rettini, Trenitalia e RFI hanno deciso di penalizzarci, dice il presidente del Comitato Pendolari del Valdarno, Maurizio D'Area. Alcuni treni importanti stanno collegando direttamente Firenze con Arezzo utilizzando la linea direttissima e saltando le stazioni del Valdarno, in particolare Figline, San Giovanni e Montevarchi. Il motivo sta nei lavori, appunto nella tratta ferroviaria fra Montevarchi e Arezzo. Trenitalia, dice D'Area, ha eliminato queste fermate, costringendo così i pendolari ad arrivare ad Arezzo e poi dover tornare indietro con il raddoppio dei tempi di percorrenza. L'estate militante sul salario minimo a favore della sanità pubblica non avviene solo sulle spiagge, ma anche nella nostra città. La raccolta firme arriva anche ad Arezzo ed è iniziata proprio oggi alle 18 nella terrazza del Circolo Aurora di Piazza Sant'Agostino. Vogliamo sostenere, dicono i circoli PD, Giotto, Saione e Aurora, una legge che garantisca a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori, una paga dignitosa e una sanità pubblica che deve essere al servizio di tutti. Adesso invece uno spaccato, insomma, con questo Ferragosto, il giorno di Santa Maria Assunta, che ci siamo appena lasciati alle spalle. I primi due servizi riguardano due celebrazioni religiose, una a Monte San Zavino, presso il santuario di Santa Maria delle Vertighe, l'altra invece ad Arezzo, con la processione in Piazza Grande. Li vediamo insieme. Una festa dell'assunta sempre molto partecipata ad Arezzo, terminata con la fiaccolata in Piazza Grande, ad ufficiare la Santa Messe, poi guidare la processione Don Alvaro. Questa è la festa più antica rivolta a Maria, secondo il Vangelo, il 15 di agosto è il giorno in cui è stata assunta in cielo. Al termine della sua vita terrena, andò in paradiso, in anima e corpo. Una solennità celebrata da tutte le chiese cristiane, per questo costituisce la festa principale della Madonna, la solennità mariana per eccellenza dell'anno riturgico. In un santuario completamente ristrutturato, Santa Maria delle Vertighe, a Monte San Savino, la Santa Messa del 14 agosto ha visto la presenza del Vescovo di Arezzo, Andrea Miglia Vacca. Prima ancora, l'immagine mariana della patrona dell'autostrada del Sole era stata portata in processione dal santuario all'entrata della A1 di Monte San Savino. Qui, poi, la benedizione del Vescovo rivolta alla comunità e all'autostrada stessa. Un momento di fede e di tradizione popolare che anche quest'anno ha visto la presenza di numerosi fedeli. Aveo Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Un ferragosto indubbiamente tra sacro e profano, anche tra tante manifestazioni popolari e tradizioni. Tra queste anche il Palio Marinaro dell'Argentario che era arrivato all'ottantesima edizione. La diretta televisiva che anche la nostra emittente ha mandato in onda ma che soprattutto ha prodotto ha avuto davvero un grande, grande successo. E poi c'è stata anche la notizia, ovvero il rione che si è aggiudicato appunto questo Palio non vinceva dal 2009. Sentiamo. L'emozione è bellissima. Avemo vinto il Palio! Avemo vinto il Palio! Alle nostre spalle esplode la gioia perché non accadeva dal 2009. Il Palio Marinaro dell'Argentario, edizione numero 80, è stata vinta dal Rione Valle. Valle campione! Vittoria epica! Vittoria epica! Vittoria storica! È stato un testa a testa per tutti i 4.000 metri nello stadio di Turchese di Porto Santo Stefano tra valle, tra l'altro l'equipaggio più giovane e fortezza, con il guzzo dei vincitori che però arrivava sempre per primo nelle virate a terra. L'emozione è incredibile, io è il primo Palio che faccio, ho 19 anni. Brenton inizia ad avvocare quest'anno, grazie ai preparatori hanno fatto un lavoro incredibile. Abbiamo fatto un inverno molto duro, la preparazione è lunga ma ha pagato. Volevo dedicare questo Palio a mio padre che è scomparso e non c'è più e sarebbe stato molto orgoglioso di me perché avrebbe tanto desiderato che io lo vincessi e io questo lo dedico a lui. Sono partiti! Nella gara si cerca di dare il meglio, non si sta tanto a pensare a chi è davanti e chi è dietro, si dà il massimo. Noi abbiamo fatto una gara spettacolare, abbiamo gestito quando c'era da gestire, siamo partiti forte come volevamo e siamo arrivati forti. Gli altri due rioni, Croce e Pilarella, sempre indietro la delusione maggiore proprio per la Pilarella che era data per favorita e avrebbe potuto mettere le mani nella Coppa d'Oro se avesse portato a casa quella che per loro era la terza vittoria consecutiva. Ma così non è andata e si sa, il sale di questa manifestazione è proprio l'imprevedibilità e a Porto Santo Stefano hanno trionfato i colori bianco-celeste con i caroselli e i fuochi d'artificio che hanno fatto compagnia a santo stefanesi e turisti fino a tardasera. Abbiamo cercato di rimetterlo in moto, un santo stefanese movimentato, attivo, vivo, insomma anche con le stesse contraddizioni, certamente c'è gente che non gli piace la confusione, però secondo me questa non è confusione, questa è vitalità paesana e quindi veramente bellissima cosa. E allora non perdetevi la replica della diretta appunto del Palio Marinaro dell'Argentario, l'ottantesima edizione che andrà in onda proprio subito dopo il nostro telegiornale. Siamo adesso invece a parlare del Ferragosto che si è tenuto a Bibbiano, collina del comune di Capolona, un luogo mantenuto in vita dalla storica venerabile compagnia di Bibbiano che tra le tante attività si impegna ogni anno a riunire gli abitanti in una cena in piazza proprio il giorno di Ferragosto. Inoltre 130 quest'anno hanno partecipato all'iniziativa in una piazza completamente rinnovata. Per noi è stato un onore, dice il sindaco Mario Francesconi, poter inaugurare la piazza in un momento in cui il Paese si è riunito per la festa dell'Assunta, un lavoro di circa 100 mila euro che abbiamo realizzato grazie al finanziamento del Gall Appennino e ai progetti di riqualificazione dei villaggi rurali. Ed infine parliamo di sport al Via e il Giro del Casentino domenica prossima 20 agosto sarà la 106esima edizione con partenza alle 13.30 da Corsalone, comune di Chiusi della Verna, un percorso che si svilupperà lungo 165 chilometri attraversando gran parte della vallata, passando anche dal centro di Arezzo per poi tornare in Casentino. La novità di quest'anno è il passaggio dei corridori sotto il traguardo che si ripeterà più volte dando la possibilità agli spettatori di vedere da vicino e per più tempo proprio i protagonisti di questa attesa gara di ciclismo. Ed infine parliamo di abbonamenti a Maranto, finora ne sono stati sottoscritti oltre 1100, ma passato il ferragosto lo store a Maranto è ovviamente tornato a riaprire i battenti. Appuntamento proprio per chi non ha ancora rinnovato la tessera a partire dalle 10 della mattina, nel frattempo sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento anche online attraverso i link messi a disposizione dalla società. La tessera consentirà l'ingresso per 17 gare di campionato vista l'introduzione di due giornate a Maranto che saranno comunicate ovviamente per tempo dal club. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio allora alla replica dell'ottantesimo palio marinaro dell'Argentario che si è tenuto a Porto Santo Stefano. Grazie per l'ascolto e arrivederci.